Buonasera a tutti e grazie ai pochi ma buoni, coraggiosi che si sono spinti fino a questo luogo Grazie a voi per essere qui, due parole su quello che farò stasera, questo progetto si chiama Spilanker, si può rendere come esploratore delle caverne, l'ho chiamato così perché ho dedicato questa performance all'esplorazione per esplorare il sassofono in maniera piuttosto un po' cortodossa, ovvero non mi vedrete quasi mai suonare, non c'è un bocchino attaccato, soffiare dentro il sassofono ma tramite questo sistema di microfoni che ho ideato, che sono fatto costruire due tradissimi sistemi elettronici che sono Marco Politano e Tommaso Rosati esploro tutto quello che succede all'interno dello strumento, sia a livello di suoni percussivi dati dalle chiavi, del sassofono sia il feedback, quello sia la risonanza che è piuttosto incontrollabile ma che io cercherò di controllare che si crea a lati volumi e con dei microfoni in ambienti chiusi. Che dire, buon ascolto, ti grazie un po' di scelta. Ah, è molto particolare a Pausto che eroicamente come al solito è venuto a filmare, a archiviare nel suo archivio penso di quanti milioni di gigabyte a questo punto, anche finanza questo processo. Grazie. 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 Grazie.